Lanterna a tutti ragazzi, qui SlimeDark e oggi sono tornato con la nostra carriera sempre con la Giaccio questo episodio il mercato penso si andrà tranquillamente a chiudere e andando a vedere quella che è la nostra squadra non siamo messi così male devo dire avremo solo un paio di competizioni, non faremo chissà quanta strada ovvero la Coppa Nazionale quindi gli unici acquisti che mi verrebbe da fare sono al limite ovviamente l'aggiunta di un centrocampista in più possibilmente non andando a spendere troppo però vedo che abbiamo questo Njike che ancora si può usare anche se è molto fuori forma questi vedrò di non utilizzarli tanto ma li faccio comunque allenare non abbiamo una rosa molto ampia ma direi che va benissimo quello che andrà a fare è andare a prendere forse un difensore centrale perché aspetto che questo Sainati mi arrivino i fondi dopo averlo ceduto ma in fin dei conti sto aspettando che mi arrivi il che io possa fare l'offerta per un difensore preso giovane che appunto è un tappabuchi e ci può stare per il livello a cui siamo quindi direi di continuare e come al solito ragazzi cercherò di concentrarmi sul campionato mantenendo una certa attenzione al calcio mercato vorrei però ad questo punto utilizzare i fondi rimanenti per andare a prendere un vero e proprio secondo portiere che può crescere in questa stagione e possibilmente subentrare all'Herois nel caso di una promozione o comunque essere migliore ok finalmente venduto Sainati o Sainati perché è francese possiamo andare a prendere il nostro difensorino un po' giovane che aveva in mente allora il difensore in questione è Jonas David non costa assolutamente niente praticamente lo si può prendere a molto meno secondo me di un milione addirittura è un 63 ma è un portiere di riserva secondario e potrebbe tranquillamente andarci bene con tanto per acquistare al ribasso completo ok preso questo Jonas David per 875.000 un po' speso tanto sinceramente spensavo molto meno però a livello di attributi in realtà l'ho anche già usato per divertirmi io faccio le carriere a volte con le squadre piccole per provare i giocatorini questo l'ho provato e nel giro di un anno mi è diventato un 70 l'ho fatto giocare in League 2 inglese però era veramente buono trattiamo per il contratto ok preso Jonas David in fin dei conti ce l'abbiamo in squadra benvenuto è sicuramente un downgrade rispetto all'altro giocatore però l'altro nemmeno era in campo palesemente e questo giocherà una volta ogni tre anni in realtà allora intanto partita con Soshio ce l'andiamo a giocare molto da prendere seriamente ci servono punti importanti perché no? perché non dovremmo trovarli contro di loro tra l'altro tengo in panchina Antist che potrebbe tranquillamente esordire in questa partita e andiamo avanti così dai attenzione l'ho visto Bayala tirala vedete gol un bellissimo gol aggiungerei bravissimo Bayala va a esultare nella curva non tua però primo gol ci stavano schiacciando veramente tanto avevo girato tutta la difesa sul mio lato bellissimo devo dire Cyril Bayala o Bayala però mi sono guardato qualche lato per sentire come sono i cognomi quindi tipo Idrissi Bayala però secondo gol buono buono dai partito bene attenzione bellissimo per Nuri oh ero stato zitto bel gol bel gol penso di dover fare dei cambi ma gol di Nuri che si conferma un buonissimo trequartista avendolo spostato bravi bravi ragazzi ok 2 a 0 difesa eccellente però di bella Cochamp spero di mettervelo perché ha fatto veramente bene devo fare un cambio attenzione guarda che corridoio per Elidrissi vai vai bellissimo sai e niente ha sbagliato ragazzi ci sono dei buchi giganti attenzione ma non lì vabbè il portero ha fatto pure un miracolo ma io l'avevo passata dall'altro all'altro quello che stava arrivando a rimorchio ah fuorigioco Antist fuorigioco gol di Antist sarebbe stato gol all'esordio ma è fuorigioco partita finita partita finita da 2 a 0 per una volta riesco a non prendere il gollo ho fatto l'attenzione massima ma la squadra si chiude a fisarmonica molto bene la difesa a 3 ha funzionato questa partita però dovrebbe funzionare anche tutte le altre per convincermi veramente detto tutto questo vinciamo so show partita saranno tutte importanti queste partite abbiamo perso un po' di punti all'inizio bella vittoria 2 a 0 netta hanno fatto poco mi va benissimo vediamo un attimo 5 tiri a 3 mi abbiamo murato praticamente l'unico effettivamente bisogna dirlo eravate sicuri di vincere abbiamo difeso molto bene quindi questo ha fatto la differenza questo mi piace come risposta adesso andiamo alla partita contro il Gignamp vado a fare la conferenza stampa e poi ci vediamo in campo eccoci qua di nuovo fuori casa questa volta giochiamo con un solo cambio rispetto alla formazione precedente perché abbiamo dato una buona prestazione siamo contro il Gignamp andiamocela a giocare bello il loro stadietto dal piccolino intimo all'inglese mi verrebbe da aggiungere forza e coraggio ragazzi bisogna giocarsela al meglio attenzione palla lunga ma troppo facile qua egoista e baggi volevo fargli far gol qua ho sbagliato volevo far segnare lui perché non sta giocando benissimo attenzione è l'idrissi attenzione il tiro troppo banale troppo banale la sua conclusione non è nemmeno il suo piede il destro in teoria bravo l'erroa che azione costruzione costruita mamma murato il tiro ragazzi ci stanno però un po' troppo stiamo rischiando un po' troppo dai diciamola attenzione lui ancora lui ma che giocatore è questo 35enne stato di grazia nelle ultime partite bravissimo importante veramente wow non me l'aspettavo dovrei fare ancora dei cambi però perché la squadra nonostante tutto non sta funzionando al meglio qua sono stato un po' fortunato poi è arrivata una saracca incredibile bravissimo 35enne chissà che possa essere l'ultima stagione la sua tra l'altro attenzione Barreto ti prego gol di nuovo dopo 3 minuti praticamente bravo tra l'altro Baggi ha costruito bene l'azione bravi tutti ragazzi 2-0 bello questo gol non c'è neanche bisogno di rivederlo è stato bravo anche Mikael Barreto bravo detto all'italiana però un po' di sostituzioni e poi si va dai Antista di nuovo in campo bisogna farlo entrare al ritmo ragazzo attenzione punizione troppo al limite qua vediamo se saranno in grado di segnare oppure no un po' paura 18 metri è veramente poco bel gol non ho messo l'uomo sul palo però bel gol qua non potevo fare nulla se non mettere l'uomo sul palo ma dubito fatemelo rivedere secondo me non poteva fare niente comunque al massimo vabbè bravo eh avevano detto attenzione a Antep gol di punizione mi dispiace un po' partita un po' riaperta attenzione errore della difesa a campo a disposizione taglia tutto il campo baggi niente calcio d'angolo attenzione bel tocco Bernoulli paratissima del loro portiere a questo punto eh niente niente basta è finita basta è finita vabbè 2 a 1 brivido un po' sulla fine per quell'unico tiro che hanno fatto in realtà un bellissimo calcio di punizione diciamo 2 a 1 onesto peccato per i nostri attaccanti non riescono ancora a sbloccarsi però va più che bene decisamente questa era da vincere eh perché 9 tiri ok eh abbiamo capito attenzione sta per finire il calciomercato di base quindi c'è il rischio che non possa riuscire a prendere un portiere vediamo un po' se può esserci qualche offerta quantomeno ci possa essere qualche cosa interessante perché siamo un po' bloccati quindi devo anche provare io a fare qualcosa nel caso all'ultimissimo giorno di mercato a mio rischio e pericolo comunque niente alla fine ragazzi saremo obbligati a giocare con senza un praticamente un vero secondo portiere dobbiamo sperare nella primavera che possa trovare dei giocatori interessanti però mi spiace veramente tanto perché non sono riuscito in nessun modo ma con un milione e due non puoi fare nulla e le offerte non possono arrivarti sei offerte tra l'altro tutte che palesemente adesso mi sono trovata costretta a rifiutare alle ultime dieci ore di mercato un po' prima per cortesia gioco allora ha reso conto sulla primavera direi che la nostra primavera al momento è abbastanza imbarazzante ma anche all'inizio sono i giocatori quindi i giocatori sono più o meno del livello della squadra andiamo a vedere i nostri giovincelli però da Algeria no rifiuta rifiuta Belazzi lo rifiutiamo Belazzi Zerwal lo rifiutiamo Ibrahim lo rifiutiamo e Sedir Selmi col potenziale neanche decente ma niente andiamo a vedere in Francia poi il nostro stravatore francese Dignard lo guarderei ancora un attimo Courtier Couturier scusate rifiutiamo Evrard rifiutiamo attenzione Jerem Len Jerem tra l'altro scusate Cross rifiutiamo Legard molto scarso però e questo Charles è ancora più pipa degli altri vabbè a questo punto aspettiamo altro osservatore però Kuroki non è così buono però possiamo anche portarlo su anche se a 91 almeno fa meno tristezza la nostra gioventù e rifiutiamo anche tutti gli altri eccoci qui contro il Valenciennes vediamo un po' penso di fare qualche cambio anche se in realtà la squadra non è mai stanca però stiamo un po' a vedere la nostra squadra cosa può andare a combinar sbagliato giovinastro attenzione però buco miracolo del portiere antist ti do le possibilità di giocare cazzarola bravissimo bravissimo Leroy bella parata la sua attenzione il portiere dorme gol di antist nemmeno ci avevo sperato io vai a segnare in casa bravissimo nemmeno c'è l'animazioncina però primo gol io non ci avevo nemmeno sperato qua dormito il portiere ragazzi non si può su un cross del genere dai va bene questo è un gol regalato ho paura per il futuro bravo antist però Gianni 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 Antist basta questo oddio ma cazzo uccellata tutta la difesa gol del Valenciennes male male la nostra difesa qui però me l'aspettavo che un gol gliel'avremmo regalato per come abbiamo segnato il nostro primo gol perché è andato un po' troppo merito degli altri cioè demerito loro più che merito nostro e non abbiamo fatto chissà che cosa attenzione l'ho visto dai mettici di più bravo antist attenzione attenzione antist antist questa volta questa volta te lo meriti se lo vuoi avere lo devi andare a prendere il gol chiaramente bravo mena la bandierina prima o poi vorrei riuscire a fare altre esultanze non solo questa però bravo antist con il numero 16 poi dovrò mettere a posto un po' i numeri però qua anche di forza perché lo stava recuperando bravo antist bravo ragazzo qua quello che non ci sta dentro questa squadra è il capitano corte bello questo gol ragazzi l'avevo visto si vede un po' quando ci sono troppi spazi non è neanche coprire lo spazio male qua proprio sarà visto non meritavano così tanto non hanno fatto praticamente nulla però attenzione shabarol questo è suo a volte che prova a passare sbaglia lui la posizione è incredibile questo giovanotto bravo però è stato molto bravo in questa occasione un inserimento perfetto i passaggi raso terra sono baggatissimi attenzione la si vai alla è tutto tuo e allora vai e allora vai corri vieni dalla panchina cazzo vai dai tifosi qua bravo bellissima questa peccato la barriera però bel gol tifosi in disibilio 4-2 non è Loriano scusate Valencien che ha ceduto il nostro capo cannoniera in questo momento il Ligue 2 è Baiala bravissimo bravissimi tutti 4-2 attenzione che gatto il portiere qua era difficile appararla bravissimo di testa Baggi wow segna ed è il suo secondo o terzo però bravissimo questo ragazzo finalmente di testa sfrutta il suo 1-92 e avere un colpitone di testa potrebbe essere interessante preferire il gol quantomeno non sempre palla a terra e tutte queste cose bravo svetta di testa sopra 3 avversari quanti gol in campionato secondo Yusuf Baggi remember his name 5-2 e partita a casa ce l'hanno anche rimontato senza fare nulla bravi dai eccoci qua ragazzi giochiamo contro il Power FC che non so manco che squadra sia questo è un male perché sono diciannovesimi e ci faranno un culo tanto se me la gioco in maniera sbagliata subito terzo minuto qua bisogna attaccare subito Barreto che fa una bella cosa bravo mamma mia Baggi ancora ha rischiato di fare di nuovo gol di testa subito ancora Baggi filo del palo peccato bravo comunque sta facendo una buona partita ah ma ha uccellato il difensore che non ha fatto l'intervento va bene contro la diciannovesima in classifica molto presto però innanzitutto ma guardate un attimo questo due volte e via va bene gol 1-0 no bravissimo dai Leroy che parata incredibile che ha fatto è possibile uscire uscire spossimo che intervento di qua qua vabbè vabbè mamma mia che cosa ha sbagliato questo qui vai bella antiii valla a prendere valla a prendere vabbè esulta come cazzo ne hai voglia dai falla sta esultanza per cortesia bravo 1-1 1-1 al 33 esimo ripassaggi c'è campo per lui ancora si è mangiato un altro gol questo come cazzo si fa come dovrebbe vai tiro giro bravissimo badgi bravissimo di nuovo segna ho scelto di mettere antisto badgi perché potrebbe essere all'attacco come sarà bravi ragazzi complimenti niente da dire rimontiamo la partita però è ancora molto lunga quindi attenzione bravissimo che cazzo ha fatto david che cazzo ha fatto david attenzione ragazzi qua l'ho già visto quadrato quadrato no no badgi cosa hai mangiato che controllo di badgi meraviglioso vai dentro d'antisto bellissimo ti prego segna ti prego segna ti prego segna vai dalla telecamera vai dalla telecamera vai dalla telecamera bravissimo ragazzi 3 a 1 controllo perfetto sul rilancio del portiere di baggi bravi bravi tutti tifosi ospiti indisibili ragazzi adesso questa sì che è una segnara partita bravantista quarto gol per lui bravo l'eruoso il primo palo che non è mai una certezza mamma mia a questo punto parti parti tu parti tu parti tu baggi per la doppietta personale per la gloria 4 a 1 al novantesimo vabbè basta non c'è neanche da esultare vai a prendere la palla e portiamola a casa sta partita bravissimi tutti ragazzi finita andiamo e tra l'altro questa prima partita di jonas david e jonas perché è tedesco non voglio sentire che abbia giocato una brutta partita nonostante sia il suo esordio perché se ne parlerà solo perché abbia preso gol perché ha salvato lui tutte quelle volte che sarebbe stato gol ha fatto una partita incredibile per essere un difensore centrale 63 quanto 20 anni dai su ok ragazzi ce l'andiamo a giocare con l'oxer ultima partita oxer comunque che è una squadra che ho sempre avuto alta stima non so perché quindi attenzione bisogna andarci cazzuti in sta partita nooo parata com'è possibile ha tirato una legna ha tirato una legna com'è possibile sta parata e vabbè l'oxer segna nuovamente nei primi minuti subiamo una disattenzione ma vabbè qua il primo palo prima parata incredibile qua primo palo non c'è secondo gol giustamente tredicesimo quattordicesimo doppietta penso dell'attacca 2 a 0 sotto andava un po' troppo bene l'episodio tutte vittorie quando mai cazzo in mano adesso si deve inizierà a giocare tenendo palla magari ho provato a tirare in porta va bene calcio d'angolo bella coccia vabbè mi si è anche scaricata la telecamera incredibile che le batterie non riescono a durare un paio d'ore e no bravo bravo l'erua meno male e niente porca puttana parata qua bravo è stato in realtà mamma mia parata ancora sul colpo di testo di antista se ne può dare adesso e no però dai ragazzi lezione di calcio incredibile dell'oxer altro gol difesa non esistente ho completamente i giocatori che si stanno stancando tutti stanno morendo tutti cosa che non succede mai io non so cosa dire 5 a 0 contro la decima in classifica l'avevo detto timore reverenziale ma i miei giocatori non possono fare i passaggi qua è come al solito e quando va male va male dai valla a prendere non mi frega che è 5 a 1 è l'ottantesimo però gol della bandiera bisognava farlo non so cosa dire 5 a 1 i miei giocatori nemmeno potevano fare un fallo duro perché fare un fallo duro a volte cambia un po' l'opinione della squadra che ha di te serve a mettere un po' in ordine l'equilibrio 5 a 1 dalla decima in classifica la vostra striscia è terminata ora questo risultato mi riempie d'orgoglio aver preso 5 a 1 ma che risposta è data allora prima di finire l'episodio vediamo i nostri osservatori Amara come la sconfitta Selmy che schifo Benzai che schifo e Benzekri che schifo vediamo in Francia Guignard vale molto poco Sione Jeremy Len ho preso una che valeva molto meno perché no tanto da buttare dentro un po' Legard secondo me è molto basso ma buttiamolo dentro Maillet Olivier rifiuta Maureen rifiuta Thierry rifiuta Selye rifiuta Henry rifiuta complimenti manco uno ragazzi cioè sono osservatori con il controcoglioni vabbè contro il chaturo dovremmo giocare prossimo episodio adesso non ho forze di giocare perché mi incazzerei e basta silenzio telefono c'è il Paris che sta andando fortissimo il Tolosa pure ma noi siamo appena lì dietro per scontri diretti siamo dietro molto semplicemente però è molto combattuta questa Ligue 2 perché vedete comunque siamo a 18 siamo 25 18 18 18 15 15 14 14 basta fare un passo falso saremmo molto staccati dalle ultime ok ce la giocheremo con il chaturo che però appunto non è da sottovalutare da d'ora in poi devo fare molta più attenzione anche in difesa forse mi è calata andando avanti con l'episodio ma è quello che è successo ragazzi ringrazio di avermi seguiti ci vediamo in un prossimo video qualsiasi esso sia a la prossima ciao 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 Ciao!